Non ci credo, un videogioco di gare, macchina da corsa, come se fosse nell'immagine, è un pazzesco, a grandezza naturale, ma come sono i videogiani che ci sono in Pineta? Niente rispetto a quello che vi sto adesso, niente! Mimita proprio nozze, cavolo! Grazie! E' un assaggino, me lo sono rimediato! E' buono se ci fai in bocca questo! Un altro assaggio, vorrei che foste in me in questo momento, al mio posto! Grazie!